Sono in tutto 25 i membri del Direttivo Regionale di Azione. Il partito, che a livello nazionale fa capo a Carlo Calenda, è che con l'elezione a segretario regionale di Giulio Sottanelli, avvenuta lo scorso 5 febbraio durante il primo congresso regionale, si prepara ad affrontare le prossime sfide elettorali anche in Abruzzo. A questi 25 membri del direttivo si aggiungono i quattro segretari provinciali e i sei coordinatori territoriali. Nella sala consigliare del Comune di Pescara è stato presentato il direttivo regionale, composto tra gli altri e anche da volti noti della politica nazionale e regionale, come l'ex segretario generale della CISL Raffaele Bonanni, l'ex europarlamentare Daniela Aiuto e l'ex parlamentare e attuale consigliere comunale a Pescara Carlo Costantini, che si occuperà dei rapporti con gli enti locali. Al Tg8 il segretario regionale di Azione, Giulio Sottanelli, annuncia di essere già al lavoro con il suo direttivo per rafforzare sul territorio il radicamento del suo partito. L'azione nasce a fine novembre 2019, pochi mesi dopo purtroppo è arrivata la pandemia, nonostante ciò in questi due anni abbiamo costruito in tutta Italia e abbiamo anche fatto i congressi negli ultimi mesi e questo ha prodotto l'elezione di tutti gli organismi sul territorio, momento importante. In Italia abbiamo superato i 20.000 tesserati, in Abruzzo siamo 800 tesserati e quindi un momento di democrazia e di confronto con il territorio nonostante un periodo difficile perché stavamo appena uscendo piano piano dalla pandemia è arrivata questa guerra. L'Italia e l'Europa devono dare delle risposte molto concrete e molto pragmatiche, che non è soltanto la solidarietà perché quella ovviamente è scontata, ma in maniera pragmatica bisogna lavorare nei prossimi mesi per rendere autonoma a livello energetico tutta l'Europa, dare dei sostegni all'economia perché certamente questo avrà ripercussioni per l'import e l'export anche sull'Italia e anche quindi sull'Abruzzo. Quello che noi abbiamo detto ed è uno dei principi fondanti di azione è quello che noi stiamo verso la democrazia, verso l'America, quindi verso l'Occidente purtroppo. Negli anni passati alcuni partiti in Italia hanno strizzato l'occhio a Putin, hanno strizzato l'occhio alla Cina, quindi la politica italiana deve dire innanzitutto da che parte sta. Un'ampia base di tesserati in rappresentanza di una società composita è pronta con azione a mettersi in gioco per le prossime sfide politiche, a partire da quelle elettorali abruzzesi che saranno coordinate anche dai segretari provinciali appena eletti nei vari congressi. Stefano Torelli per Pescara, Gianluca Presutti per l'Aquila, Giovanni Luciano per Chieti e Michele Capanna Pisce per Teramo. Sono molto orgoglioso della qualità umana professionale di tutti i membri del direttivo regionale, sono tutte persone di altissimo profilo, tutte persone che con generosità hanno deciso di donare tempo, competenza e passione a un progetto che vuole dare una svolta a tutta l'Italia ma soprattutto un modo diverso di fare politica che non è quello di alimentare quello che io chiamo purtroppo la professione del politicante. Noi vogliamo andare oltre anche il bipolarismo creando una buona classe dirigente di governatori che riescono ad affrontare i problemi dei cittadini e risolverli.